buongiorno e benvenuti nella mia cucina la cucina di a tavola con silvia allora quest'oggi ho voluto fare un voglio provare una ricetta nuova che è molto simile a quella che ho fatto precedentemente cioè quella dei croissant voglio fare le nastrine allora il procedimento è simile cambiano forse leggermente le quantità quindi vi faccio vedere allora sono 100 grammi di zucchero 500 di farina un uovo 250 di latte a diciamo tiepido non proprio a temperatura ambiente perché adesso fa un po freddino 50 grammi di burro un cucchiaino di sale mezzo lato di lievito fresco quindi procediamo facendo cosa mettiamo tutti gli ingredienti secchi dentro al alla planetaria lo zucchero la farina poi prendiamo il latte e metto il lievito sbriciolandolo dentro al bicchiere così lo giro fin tanto che il lievito si scioglie in questo modo ci vuole un pochino di tempo ovviamente perché deve essere sciolto perfettamente e non deve lasciare residui sul fondo del bicchiere metto il lievito così vedete pezzettino appena appena residuo ma non problema il sale lo mettiamo per ultimo il burro lo aggiungiamo una volta che abbiamo acceso la planetaria e che sta andando avanti l'impasto e così per l'uovo quindi l'ordine sarà farina zucchero il latte con il lievito poi l'uovo il burro e il sale va bene ci vediamo più tardi come vedete come vedete l'impasto, scusate devo alzare un pochino la voce, si è già incordato adesso metto l'uovo e lo accelero un attimo per farlo scorporare detto ciò mentre sta incorporando l'uovo che ovviamente ho già fatto con questo incorporato metto un pezzettino di burro alla volta e 50 grammi di piotto tutto prima adesso lo mando avanti circa 5-6 minuti e dopo alla fine quando tutto è ben incorporato il burro metterò il sale sono passati circa 5 minuti ora metto il sale mi raccomando è importante il sale è la testa dell'ultimo perché se l'allievo muore poi faccio vedere i passaggi successivi il composto è pronto ora vedete com'è morbido io aggiungerò un pochino di farina e lo andrò a lavorare piegandolo ripetutamente su se stesso per una decina di volte dopodiché lo metterò dentro la ciotola coperta con il cellophane e lo metterò nel forno preriscaldato insomma ecco fino a che non raddoppia più o meno il suo volume io direi almeno almeno un paio d'ore d'accordo quindi ci vediamo più tardi allora come vedete ho colto dopo due ore abbondanti il composto dal forno ed è triplicato invece che raddoppiato ora rivolgo dallo stampo insomma dalla ciotola e lo metto sul piano di lavoro con un po' di farina lo stendo faccio un rettangolo non serve il mattarello perché è molto molto malleabile quindi lo faccio con le mani anche se non viene un rettangolo perfetto non succede nulla e ora metterò il composto di burro e buccia d'arancia grattugiata diciamo sono circa 200 grammi di burro 100 grammi di zucchero e la buccia grattugiata di un arancio potete mettere se non vi piace l'arancio quella di un limone ma l'arancio ci sta meglio io l'ho lavorato insieme lo metto qui di lato e molto delicatamente lo spargo su un terzo del rettangolo se riesco a metterlo giù aiutatevi con le mani se non ci riuscite basta che le mani le avete sicuramente pulite state lavorando in cucina se non viene più condita condita sicuramente intanto manfredo viene a controllare se io faccio tutto fatto bene adesso questo ops lo piego così faccio lo stesso su questo lato qui sempre molto delicatamente delicatamente per me è un optional e arrotolo di noi l'ultimo strato di burro questa è una cosetta proprio dietetica sì ovviamente in previsione della prova costume con tutto questo burro penso che la prova costume dicendo che facciamo scritta non la rimangiamo direttamente al prossimo anno ok vedete che nel frattempo già sta rilievitando si è gonfiata già di nuovo ecco qui e adesso chiudiamo questo è il fischio di chiusura ora fatto ciò lo mettiamo lo mettiamo in una pellicola lo chiudiamo ermeticamente e lo mettiamo nel frigo per 30 minuti quindi ci vediamo dopo ciao ciao allora abbiamo fatto le piegature per 4 e per 3 per 3 volte quindi mettendole ogni volta mezz'ora nel frigo dentro al cellulofan ora facciamo dei tagli nella pasta in questo modo è ovvio che risulta piccicosa è piena di burro quindi vi faccio vedere vedete la sfogliatura? è bellissima allora ora fate questo ve ne faccio vedere due poi dopo il resto le farò mano a mano le spolverate con la farina delicatamente le allungate quindi gli date una forma così le girate in questo modo pigiate nel centro e le mettete a lievitare procedete così per tutte le nastrine delicatamente poi le girate pigiate nel centro e continuate così mi raccomando deve essere la pasta deve essere sfogliata benissimo se no non vi verranno mai in questo modo le girate come fossero un fiocco e le pigiate nel centro e le mettete a lievitare sopra metterò dei granelli di zucchero appena appena tanto per guarda vi faccio vedere giusto per dare quell'effetto nastrina ok ci rivediamo quando sono tutte quante pronte a dopo ecco qua sono tutte quante pronte adesso io metterò un pochino di zucchero classico potete anche mettere lo zucchero di canna che i granelli un po più grandi su ognuna di esse così e poi le metterò di nuovo nel forno ovviamente preriscaldato e spento a levitare un pochino diciamo un'oretta più o meno dopodiché passeremo alla cottura 190 gradi forno statico per circa 20-25 minuti dipende sempre dai forni ci vediamo dopo eccole pronte le nostre nastrine sono delle delizie proprio delizie veramente sicuramente saranno buonissime io vi sprono a fare questa ricetta e fatemi sapere mi raccomando mettete nei commenti come sono venute e mettete anche un bel mi piace e condividete condividete ciao a tutti ciao